La comunicazione e l'interazione tra gli uomini ha storia antica, dai segnali di fumo dell'uomo delle caverne ai maratoneti alla posta che giungeva con la diligenza per arrivare al treno, all'auto, alla nave, all'aereo. Oggi la comunicazione supera ogni ostacolo grazie a intern, ma determinate cose non possono giungere nelle nostre case attraverso la fibra ottica. Si messaggia con i vari Facebook e WhatsApp, ma il pacchetto, l'oggetto, non può che arrivare con altri mezzi. Pacchi e pacchetti prima si muovevano da una parte all'altra, almeno nel nostro bel paese, grazie alle poste italiane. Oggi una miriade di corrieri trasporta da un capo all'altro del mondo e in tempi rapidissimi. La concorrenza è sfrenata e tutti giocano a chi impiega meno tempo. Giunge nelle nostre case anche il cibo caldo e i sistemi di consegna sono i più disparati, ma l'ultima prova contro il tempo è l'utilizzo dei droni che verranno messi alla prova prossimamente anche nei cieli italiani, sopra le teste dei torinesi. Sì, chiaramente di ferro e di plastica. E siamo alla sperimentazione, almeno in Italia, visto che i droni si sono già alzati in volo per consegnare merci a Dubai. Adesso le cose ci lasciano per pressi, ma presto troppo la merce, i droni trasporteranno anche le persone. La rivoluzione tecnologica ci metterà con le spalle al muro.